Ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di FNAF Ultimate Custom Night Oggi come promesso la notte da 4000 punti La scorsa volta ho fatto quella 3500 Che in realtà non è stata neanche troppo difficile Però dava fastidio, devo ammettere Si chiama JJ non BB, sta qua si chiama JJ Infame anche lei Poi Mangle Lui Vabbè taglio e vi faccio vedere la notte completa Allora questa dovrebbe essere la notte Ma sono indeciso se mettere Afton o no Perché Afton è infame Cioè è infame Fizz Molto, molto infame Allora il chip no perché mi copre troppo lo schermo Music man no Anzi facciamo così Questo qui a 10 Questo qui a 10 E un altro al 10 che possiamo mettere A lui Ok 3 2 1 Iniziamo Via No perché questo Ok Questa qui è la camera con fozzi Lo chiuso Zoom Dannazione Ho perso troppo tempo con Ernard e mi sono dimenticato di chiudere Però è fattibile È fattibilissimo Non mi fa usare la torcia Ok Allora Allora Non mi fa' Non è ovvio Allora Allora Sembra Diffice Difficile Lamentata di mille Diffice Diffice si mille punti aumentata ma è difficile la festa vai via man goal ok allora lì c'è bonnie ok ah perché c'è un pezzo di fozzi per terra ok no lì per terra a destra in basso c'è un pezzo di fozzi l'alivo notario è stato infame da parte di fozzi fozzi al 20 è difficile da gestire si è difficile è difficile da gestire al 20 5 di mattina 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 Sì, 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 godo, godo Ok, è stato un po' silenzioso il match Però 4.000 punti sono buoni Molti, se in realtà pochi ma buoni Ah, che felicità Interferenza Interferenza Che figata di interferenza Cioè praticamente Freddy chiedeva attaccare Fozzi Però Fozzi sapeva del suo attacco che è stata una trappola Cioè È una figata Comunque il chip stanotte non mi ha attaccato Lui La prossima notte sarà il triplo Sarà 5.000 punti Quindi il chip al 20 Afton al 20 Nightmare Freddy al 20 Probabilmente Molten Freddy al 20 Poi Vabbè, ci vediamo ragazzi Per questo video ovviamente è tutto Perché abbiamo fatto il nostro obiettivo Ci vediamo Ciao 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 Ciao